Siamo con Ervede Clerc, dream leader di Artforum e ispiratore di ACT, Advertising Community Together, un movimento nato subito dopo l'11 settembre per riunire la comunità dei creativi, della comunicazione, della pubblicità, dei media, nello sforzo di impegnarsi e diffondere messaggi per buone cause. Il tema di quest'anno è grandi pubblicità per buone cause. Può darci alcuni esempi di questa buona advertising? Beh, una cosa che mi piace, c'è un esempio che potrebbe essere un buon esempio, questo è l'esempio di Earth Hour. Earth Hour è un buon esempio perché mostra che non è solo print o tv, è un movimento. L'esempio di 4 anni fa, in Sydney, con alcuni mili persone, alcuni compagni e il maio di Sydney, che deciso di cercare la luce per un'ora. E questo è 4 anni fa. e 4 anni fa, grazie a l'internet, le social network, il fatto che siamo in un mondo globale, questo anno 1 milione di persone ha cambiato il loro luce per un'ora. 1 milione di persone, puoi immaginare. e con 5,000 cittadini che partecipavano in questo. E molti monumenti sono fermati. Le luce sono fermati, l'Eiffel Tower, la Sphinx dell'Egypto, l'Empire del Stato, il bambino e il tutto. Quindi questo è un buon esempio di un'advertizia di oggi. L'advertizia di oggi è di comunicare in due mani, con le persone. E' proprio quello che si è avuto con questo evento. Usando l'advertizia di comunicazione, l'advertizia come un strumento. Quindi è tutto. E' un buon esempio. Che lezione possiamo imparare da un'iniziativa come Ertour, ma come tutti gli altri lavori esposti nella mostra di ACT, in termini di efficacia della pubblicità e della comunicazione? Uno dei problemi è che, normalmente, l'advertizia sociale, o l'advertizia ambientale, non c'è un obiettivo corto. C'è un obiettivo di cambiare le menti delle persone, cambiare il loro comportamento vis-à-vis un problema. C'è un obiettivo molto tempo. C'è un obiettivo di generazione. Quindi, uno, non puoi fare solo una campagna e sperare che qualcosa si succede. E due, probabilmente, in molti casi, hai bisogno di aspettare il risultato. In caso di Earth Hour, hai visto il risultato. Ma in caso di cambiare le comportamenti, per esempio, di fumare, prende una generazione. Ma ancora funziona. Guarda la forma che la gente ha guardato i fumatori da anni fa. C'era il Marlboro Cowboy. C'era la gente forte, un uomo. Un uomo è un uomo. Un uomo è un uomo. Adesso, un uomo è un uomo. E' un uomo è un uomo. E' così. E' un uomo è un uomo. Non era solo l'advertising, ma gli altri strumenti di comunicazione, come i media, le parole di mouth, ma l'advertising ha il suo ruolo di enfasizzare questo cambiamento dell'immagine. Questo è un buon esempio di effettività. La mostra di annunci che vogliono cambiare il comportamento. Il tributo a Giappone messo insieme da ACT sembra qualcosa che vuole restituire a chi ha sofferto qualcosa da parte della comunità dei pubblicitari. Ci può raccontare questa prova, questo esperimento? Questa esperienza è stata molto semplice. Quando abbiamo creato, come hai detto inizialmente, quando abbiamo creato ACT RESPONSIBLE, è stato letteralmente 9-11. È stata una reazione. Siamo tutti americani, chiamavamo fare qualcosa, chiamavamo contribuire. E il nostro lavoro è di chiamare le persone di pubblicità per fare qualcosa. Quindi quando questo disastro di japano, il triple disastro, l'erthquake, il tsunami e il radiazione, abbiamo dovuto fare qualcosa del stesso modo. Quindi ciò che abbiamo fatto, e l'abbiamo già in april, ricordate, è stato molto vicino a questo dato, ma immediatamente abbiamo deciso di chiamare la comunità per mandare il loro lavoro e dimostrare alle persone di japani che ci siamo stati con loro. Uno dei problemi reali di japano è che si sentono, l'ambassadore di japano mi ha detto, che si sentono soli, che si sentono soli. C'è una grande cosa che succede a loro e che hanno bisogno di vedere che il mondo è stati con loro. Quindi ciò che pensiamo che possiamo fare è dimostrare che il mondo è stati con loro. e abbiamo chiamato per campanze per il japano e abbiamo ricevuto 90 campanze da 20 paesi, inoltre delle storie molto migliori da japano. Hakuhodo ha messo un film che ha dato un'esperienza di un giornalista, che il giornalista è stato totalmente distruttato e il giornalista ha deciso di fare qualcosa e abbiamo scritto un giornalista per mano. Quindi questo è stato un esempio. Un altro esempio è un paese di un piccolo pubblico che hanno deciso di fare un posteri progetto. Lo che hanno fatto è che hanno fotografato le persone, le persone reali in un villaggio, in fronte del rubro, in fronte della loro vita. e le persone, la linea, dicevano che siamo forti, siamo riusciti. E' stato un messaggio di speranza. E' quello che hanno fatto è che hanno scritto questo posteri e hanno messo questo posteri in tutto il paese, in i rifugiati di disastri, campi, in tutto. E' quello che hanno chiamato un beacon di riuscione. significa una scelta. Le persone sentono che le altre persone sono davvero con loro e vogliono fare un messaggio di speranza. Quindi ciò che stiamo cercando di fare qui è dare ai Giapponesi il sentimento di che stiamo stando con loro e che darà un messaggio di speranza. Grazie, Hervé. Grazie a Hervé De Klerk per ADV Express TV. Tommaso Ridolfo. Grazie a Hervé De Klerk per ADV Express TV.